Le fughe all'indietro, come Brexit, non portano maggior benessere ma confusione e incertezze. Nessuno può vincere da solo in un mondo globalizzato. L'Unione Europea è un condominio privo della regola fondamentale, la Costituzione. Deve essere quindi ripensata, riformata profondamente. E l'Italia deve essere coprotagonista di una nuova Europa più democratica e solidale, che cresca unita e rispettosa delle differenze che sono ricchezze del pluralismo di culture, economie e società. L'ABI chiede regole che garantiscano la concorrenza negli investimenti e nel lavoro, in un'Europa meno burocratica e più orientata alla ripresa dello sviluppo e dell'occupazione. Stabilità e crescita debbono essere assicurate con equilibrio. Debbono essere meglio coordinate le iniziative delle autorità europee e nazionali, semplificando le produzioni normative. La nuova legislatura europea deve essere ricostituente e l'Italia deve concorrervi costruttivamente. Apprezziamo i consensi alla proposta che abbiamo lanciato oltre un anno fa. Che l'Italia assuma un'importante responsabilità economica nella nuova Commissione europea.